Dopo la brutta figura prenatalizia dell'aeroporto londinese di Gatwick, trovatosi impreparato davanti al sabotaggio da parte di uno o più misteriosi piloti di droni che hanno paralizzato lo scalo per tre giorni, il governo britannico corre ai ripari. La zona interdetta a questi dispositivi verrà infatti estesa da 1 a 5 km intorno agli aeroporti. 140.000 persone avevano subito disagi fra il 19 e il 21 dicembre per le continue chiusure di Gatwick a seguito dell'avvistamento di droni. Una coppia era stata arrestata e poi rilasciata, da allora il silenzio è calato sull'indagine. A tentare la sicurezza del traffico aereo comporta fino a 5 anni di prigione, Heathrow e Gatwick hanno annunciato massicci investimenti per migliorare le misure di difesa antidroni.